Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di probabilità condizionata e spiegherò la differenza tra eventi dipendenti e eventi indipendenti. Spero che argomenti come questo vi piacciono, se è così non vi dimenticate di lasciare un like ed iscrivervi al canale se siete nuovi. Attivate anche la campanellina per rimanere sempre aggiornati per i prossimi video che usciranno. Inoltre, se sul mio canale vedete che manca qualche argomento scrivetemelo pure sotto nei commenti in modo tale che io possa farci un prossimo video. Quindi, come si fa a determinare la probabilità di un evento che dipende da un altro evento? Prendiamo in considerazione sempre lo stesso esempio che vi ho affrontato anche in un altro video di probabilità nel quale appunto avevamo visto la probabilità della somma logica di eventi. Se non l'avete visto io comunque vi lascio il link qua sopra in modo tale che voi possiate andarlo a vedere. L'evento di cui parlo appunto è consideriamo 12 dischetti che sono numerati da 1 a 12. Nell'esempio che avevamo visto però noi consideravamo due eventi dove il primo evento diceva di dover prendere che quindi sarebbero usciti dei numeri pari, mentre il secondo evento ovvero sarebbero usciti dei numeri maggiori di 7. Invece in questo caso prendiamo due eventi diversi dove l'evento 1 ci dice che esce un multiplo di 3 mentre l'evento 2 esce un numero minore di 9. Quindi l'insieme universo U sicuramente è composto da tutti i numeri che sono compresi tra 1 e 12 quindi avremo 1, 2, 3, 4 e così via fino ad arrivare proprio al 12. Quindi tutti i numeri possibili che possiamo ottenere pescando un gettone dal nostro sacchetto. Invece i casi favorevoli dell'evento E1, ovvero abbiamo detto che devono uscire i numeri che sono moltipli di 3 abbiamo proprio 3, 6, 9 e 12. Quindi sicuramente i casi favorevoli dell'evento E1 sono proprio 4. Invece andiamo a considerare l'evento E2. L'evento E2 diceva che devono uscire i numeri minori di 9. Quindi andiamo a considerare tutti i numeri che sono compresi tra 1 e 9. In questo caso quindi avremo 8 casi favorevoli perché appunto partiamo da 1 e arriviamo fino a 8 perché appunto devono essere minori di 9 e il 9 non deve essere compreso. Quindi in questa immagine possiamo vedere ciò che abbiamo detto finora. Abbiamo l'insieme universo, quindi tutti i numeri da 1 a 12. I casi favorevoli di E1, quindi dell'evento E1, lo chiamiamo proprio l'insieme A che è costituito appunto da questi 4 numeri, quindi vi sono 4 casi favorevoli dell'evento E1. Invece i casi favorevoli dell'evento E2 lo chiamiamo insieme B e sono 8 numeri perché appunto abbiamo tutti i numeri minori di 9 escluso però il 9. Quindi la probabilità dell'evento E1, andiamo a fare proprio i casi favorevoli fratto tutti i casi possibili. Abbiamo detto che i casi favorevoli sono 4 perché appunto abbiamo 4 numeri che sono multipli di 3 al tempo stesso però al denominatore abbiamo tutti i casi possibili ovvero noi sappiamo che i numeri sono compresi tra 1 e 12 quindi sicuramente i casi possibili sono proprio 12. Quindi la probabilità dell'evento E1 è proprio 4 fratto 12. Lo semplifichiamo e otteniamo un terzo. Supponiamo però che stiamo giocando con un amico. Questo amico estrae appunto un numero e ci dice, senza farcelo vedere, che è uscito proprio un numero minore di 9. Quindi sicuramente si sarà verificato l'evento E2. Cosa possiamo dire però in questo caso della probabilità dell'evento E1? Ovvero che cosa possiamo dire della probabilità che il numero estratto dal nostro amico oltre a essere un numero minore di 9 si ha anche un numero multiplo di 3. In questo caso possiamo parlare che l'evento E1 è condizionato dall'evento E2. Quindi sicuramente noi sappiamo che l'evento E2 si è verificato. Quindi il nostro amico ha estratto un numero minore di 9. E questo, diciamo il verificarsi dell'evento E2, ci dà molte più informazioni riguardo proprio la probabilità che si sia verificato anche l'evento E1 contemporaneamente. Infatti indichiamo proprio la probabilità di E1 calcolata appunto nell'ipotesi che l'evento E2 si sia verificato con questo simbolo. Quindi la probabilità di E1 condizionata a E2. E lo indichiamo con questo simbolo che potete vedere in figura. Per calcolare la probabilità condizionata dobbiamo tenere presente però alcune caratteristiche. Ovvero, poiché supponiamo che l'evento E2 si sia verificato, allora l'insieme universo, noi possiamo chiamarlo come U' per l'evento E1 condizionato a E2, è dato dai risultati favorevoli a E2. Ovvero, l'universo, quindi l'insieme universo U' è proprio uguale all'insieme B. Dove l'insieme B è costituito da tutti i numeri che sono minori di 9. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I casi favorevoli invece per l'evento E1 condizionato all'evento E2 devono essere ricercati solo all'interno del nuovo insieme universo, quindi solamente all'interno dell'insieme universo U'. Possiamo dire che sono dati dall'intersezione tra i casi favorevoli dell'insieme E1, che noi sapevamo essere proprio l'insieme A, e quelli dell'insieme E2. Quindi l'insieme F dei casi favorevoli è dato proprio dall'intersezione tra questi due eventi, quindi dall'insieme A intersecato insieme B. Dove? In questa immagine è anche molto più chiara l'intersezione tra questi due eventi, quindi tra l'insieme A e l'insieme B, quindi tra i due eventi di cui abbiamo parlato prima, ovvero l'evento A, quindi i multipli di 3, e l'evento B, quindi tutti i numeri minori di 9, i casi favorevoli, quindi la loro intersezione, quindi l'insieme F, proprio la loro intersezione, ovvero i numeretti che sono compresi e sono contenuti in entrambi gli insiemi contemporaneamente, ovvero proprio il numero 3 e il numero 6, quindi quel pezzettino centrale tra i due insiemi. Dunque possiamo dire che la probabilità di E1 condizionata a E2 è data proprio dal rapporto tra il numero di elementi dell'insieme F, che abbiamo trovato con i 3 e 6, e il numero di elementi dell'insieme universo U'. Quindi noi abbiamo detto che al numeratore vi deve essere l'insieme F e noi sappiamo che vi sono solamente due elementi, perché vi è il numero 3 e il numero 6. Al denominatore, invece, il numero di elementi dell'insieme universo U', ovvero gli otto numeri che avevamo trovato prima, quindi i numeri minore dei 9. Quindi abbiamo che la probabilità di E1 condizionata a E2 è 2 fratto 8, ovvero un quarto. Invece la probabilità di E1 era proprio un terzo, mentre quella di E1 condizionata a E2 è un quarto. Quindi possiamo dire sicuramente che la probabilità di E1 è diversa sicuramente dalla probabilità di E1 condizionata a E2. Vediamo però anche un altro esempio. Considerano altri due eventi per capire la differenza tra eventi dipendenti e eventi indipendenti. In questo caso prendiamo sempre l'evento E1 che avevamo visto prima, ovvero deve uscire un numero multiplo di 3, ma prendiamo un altro evento, ovvero l'evento E3, dove dice che deve uscire un numero pari. In questo caso supponiamo che invece il nostro amico ha estratto un numero pari, quindi che si sia verificato sicuramente l'evento E3 e noi questo evento lo chiamiamo proprio l'insieme C, dove sarà costituito da tutti i numeri che sono pari e sono compresi appunto sempre tra 1 e 12. Quindi abbiamo l'insieme C che è costituito da 2, 4, 6, 8, 10, 12. Se si è verificato l'evento E3, i casi possibili che il numero uscito sia multiplo di 3, ovvero che si sia verificato l'evento E1, è condizionato proprio dall'evento E3. E questi sono 6, mentre quelli favorevoli sono 2, ovvero sempre l'intersezione tra l'insieme A e l'insieme C. Anche qua dalla figura è un po' più chiara. Abbiamo l'evento A, quindi tutti i numeri multipli di 3. Abbiamo l'evento C, ovvero tutti i numeri pari. I casi favorevoli, quindi l'intersezione tra questi due insieme, tra questi due eventi, sono proprio due numeretti centrali, ovvero 6 e 12. Quindi sicuramente 6 e 12 sono al tempo stesso due numeri che sono multipli di 3, ma sono anche dei numeri pari. Quindi la probabilità di E1 condizionata a E3 è 2 fratto 6, perché appunto abbiamo due casi favorevoli e 6 casi possibili. Quindi andiamo a semplificare, otteniamo che questa probabilità è un terzo. A differenza del primo caso, in questo esempio possiamo vedere che le due probabilità sono uguali, ovvero che la probabilità dell'evento E1 è uguale proprio alla probabilità dell'evento E1 condizionato dall'evento E3. Quindi possiamo concludere questo video vedendo proprio la differenza tra questi due eventi, ovvero due eventi E1 e E2 si dicono dipendenti se la probabilità di E1 è diversa dalla probabilità condizionata dell'evento E1 all'evento E2. Invece gli eventi E1 e E2 si dicono indipendenti se la probabilità di E1 è uguale alla probabilità condizionata dell'evento E1 rispetto all'evento E2. E voi? Avete altri esempi di eventi dipendenti e eventi indipendenti? Fatemelo sapere sotto nei commenti e se questo video vi è piaciuto non vi dimenticate di lasciare un like ed iscrivervi al canale se siete nuovi. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo argomento. Ciao!